Uomini e donne, è finita male tra Ludovica Valli e il famoso fidanzato segreto. I gossi parlavano insistentemente di questa storia d'amore, che però è finita prima dell'ufficializzazione. Lo scope di un paio di mesi fa aveva reso molto felici i fan di Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne e modella emiliana, che finalmente sembrava aver trovato nuovamente la felicità in amore grazie a un famoso cantante, il rapper Mattia Briga, ex di Amici. Peccato però che, proprio quando la storia stava per essere ufficializzata, la storia pare essere bruscamente terminata. E i due a quanto pare non sono neanche rimasti in buoni rapporti. Vediamo insieme perché e cosa pare sia successo di recente. Uomini e donne, Ludovica Valli e Briga, la passione, chi aveva infiammato il web. Da sempre due personaggi molto amati dal pubblico, che segue i programmi di Maria De Filippi, soprattutto Uomini e donne e il talent Amici, Ludovica Valli e Mattia Briga qualche mese fa erano ritornati alla ribalta per la loro presunta storia d'amore. La Valli, che è stata protagonista del trono classico di Uomini e donne, era single da diverso tempo e pare che avesse conosciuto Briga nel corso di un evento. Da lì un colpo di fulmine ricambiato che li aveva visti frequentarsi sempre più spesso, e fare anche uscite pubbliche assieme. Uomini e donne, la storia finita ancora prima di essere ufficializzata. I due si sarebbero scambiati diversi messaggi prima di incontrarsi in un vero appuntamento e, quando questo è avvenuto, sarebbe cominciata la relazione vera e propria. Il flirt, insomma, era nell'aria da diverso tempo, ma Ludovica Valli e Mattia Briga non sono mai usciti completamente allo scoperto, forse anche perché dopo il clamore per la fine della storia con Fabio Ferrara, l'extronista voleva andarci cauta, anche se le foto scattate a Roma, a Ponte Emilio, da Femme, chi li avevano riconosciuti parlavano chiaro. Le durissime parole del rapper di Amici contro l'extronista di Uomini e Donne. Eppure questa storia così promettente è finita proprio quando i due si apprestavano a renderla pubblica. Il motivo non è noto, ma una cosa è certa, è finita male e Briga porta un certo rancore alla sorella di Beatrice Valli, visto che un suo sfogo tramite stori di Instagram sembra rivolto proprio a lei e la accusa di essere troppo materialista, interessata esclusivamente ai soldi e ai regali e non al cuore di una persona. Come risponderà la bella Ludovica a queste gravissime accuse, sempre se risponderà? I suo fan, infatti, si sono scatenati contro Briga. Grazie a tutti. Grazie a tutti.